Una vita di splendiosa, da vera star, può portare a conseguenze disastrose, soprattutto quando non si guadagna più come un tempo. Pamela Anderson è sull'orlo della bancarotta, così ci raccontano i giornali. L'ex bagnina di Baywatch, con gli anni che avanzano, hanno visto sempre più diradarsi i suoi impegni professionali. Poi è arrivata la crisi ed è iniziato il declino. A corto di Monet, Pamela è stata costretta a rinunciare alla bellissima e faraonica villa che possedeva Malibu. Per il momento è riuscita a saldare i debiti, a mettere da parte un gruzzoletto rimanente, ma a Hollywood ed intorni si dice che, se non limiterà le spese, tra non molto si troverà nuovamente con l'acqua alla gola. La Anderson dovrà diradiare le sfizie extra e vivere come una comune mortale. O quasi. Grazie. 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 Grazie.